Luigino Bruni, economista, presidente della SEC. Il 28 gennaio si celebrano i 10 anni dell'IPEC. L'economia di comunione può essere veramente una via per la fraternità? Beh, lo è nei fatti, perché sono 32 anni che porta avanti un'economia fraterna, giorno dopo giorno, nel quotidiano, nella normalità della vita dell'impresa, non è un convegno, non è una festa, è il quotidiano. Quindi da 32 anni lavora su queste tematiche e lavora nel silenzio, nei beni invisibili, nei rapporti, costruisce relazioni diverse, edifica i capitali delle persone più che i flussi. E quindi lo ha fatto finora e mi auguro e auguro all'IPEC in Italia e in tutto il mondo che i prossimi 30 anni siano ancora più belli di quelli passati. Io ne ho vissuti una buona parte di questi anni e ho visto miracoli, autentici miracoli, di gratuità, di generosità, a volte di vere santità di persone che hanno speso la vita, hanno raggiunto un'eccellenza anche spirituale nella vita economica. Questo è un messaggio di speranza per tante persone.